Non è un periodo sereno per Francesco Totti. Il suo cuore è pieno di tormenti. Parola di un amico del pupone. Una fonte ha spifferato al settimanale di più che l'ex calciatore della Roma sarebbe piuttosto preoccupato per l'ex moglie Ilari Blasi. I due si sono ormai separati un anno fa ed entrambi si sono ricostruiti una vita accanto ad altre persone. Totti con Noemi Bocchi, la conduttrice Mediaset con l'imprenditore e modello tedesco Bastian Muller. Una gola profonda ha spifferato alla rivista edita da Cairo Editore. Il cuore di Francesco è pieno di tormenti. La battaglia in tribunale è vicina e lui, in questo periodo, ha cercato un po' di svago. Ha organizzato una fuga d'amore sulla neve con la sua Noemi. In cerca di un po' di quiete prima della tempesta. Nei giorni scorsi, infatti, Totti e Noemi si sono concessi un po' di relax a Madonna di Campiglio con i rispettivi figli. La prima causa di divorzio con l'ex moglie Ilari Blasi, che si preannuncia infuocata, è prevista il prossimo 14 marzo. Stando alle ultime indiscrezioni non ci sarà spazio per una linea morbida. Una separazione consensuale come sperava Francesco. Chi conosce bene lo sportivo ha precisato. Totti e Ilari sono sempre più lontani. Ogni accordo sembra impossibile. Intanto lui è sempre più vicino a Noemi. Il loro legame è sempre più solido. È stata Noemi ad avere avuto l'idea della vacanza sulla neve. Anche lei aveva bisogno di qualche giorno di relax dopo aver scoperto il suo problema di salute. Noemi Bocchi ha rivelato di soffrire di diastasi addominale. Problema sorto dopo le due gravidanze. Dall'ex marito Mario Caucci la 34enne ha avuto i figli Sofia e Tommaso. Presto la flower designer dovrà operarsi. Sottoporsi più precisamente ad un intervento di addominoplastica. Noemi non ha voluto rinunciare alla settimana bianca. Lei ama sciare. Mentre Francesco era più titubante perché non ha mai praticato questo sport. Quando giocava a calcio lo evitava per timore di infortuni. Poi si è dedicato soprattutto al padel. La sua passione oggi. Noemi non ha voluto rinunciare alla settimana. Noemi non ha voluto rinunciare alla settimana.